Un buon inizio di giornata a tutti voi dalla redazione, bentrovati al primo appuntamento con il telegiornale del mattino, parliamo soprattutto di sanità perché a margine della conferenza stampa sullo screening diabetico, il governatore Toma ha parlato del commissario dicendo di ottimi curriculum da parte dei tecnici ma una situazione che va oltre il manuale Cencelli dal punto di vista politico, chiara l'allusione all'occupazione della sanità da parte del governo che ha mandato in Molise due persone estranee alla regione. Aspettiamo di vederli all'opera detto il governatore ma vigileremo con la massima attenzione. Vediamo. Prima uscita pubblica del presidente della regione Donato Toma dopo la nomina del nuovo commissario e subcommissario alla sanità Angelo Giustini e Ida Grossi ha detto il presidente sono figure con un ottimo curriculum ma rispetto al cui operato ci riserviamo di osservare e controllare le iniziative. I molisani ha detto il governatore dovranno avere ben chiaro un aspetto da qui in avanti le scelte che verranno compiute saranno sotto la diretta responsabilità del governo nazionale. No io il commissario non l'ho sentito, non lo conosco e lo sto attendendo. I commissari e subcommissari sono tutti e due laureati in medicina poi hanno un curriculum che esprime le esperienze fatte. Non c'è il track record come lo chiamano gli inglesi cioè il vissuto, i risultati ottenuti nel corso delle esperienze fatte ma vedremo. Io mi attendo che il governo possa venire incontro alle aspettative di questa regione e dei molisani. Una riflessione ulteriore Tomala svolge anche rispetto al tema dell'autonomia regionale e sul piano politico il suo è un giudizio gelido. Il manuale Cencelli di vecchia memoria dice aveva connotati più democratici rispetto alle scelte compiute per il Molise. Quali quote di autonomia restano alla regione molise in ambito sanitario? Questa è una domanda non bella, eccezionale. In realtà praticamente io devo un po' fare la ricognizione di quella che è i compiti che residuano dopo quelli che sono stati attribuiti al commissario ad acta. Io nei prossimi giorni vi fornirò anche la delibera se non è già sul sito del Consiglio e vedrete che in pratica io ho un distacco di sanità. Il bilancio della sanità è completamente avulso da quello regionale se non per il trasferimento di fondi che competono alla regione. Dopodiché il commissario ha poteri ampi, addirittura potrebbe caducare provvedimenti legislativi che vadano in contrasto con il piano di rietro. Un commento però sul piano politico? Beh, Emanuele Cincelli era fatto molto meglio perché Emanuele Cincelli lasciava qualcosa anche alle minoranze. Qui praticamente si sono prese tutte le parti di maggioranza. Le dichiarazioni di Toma sono giunte a margine di una conferenza stampa congiunta di Regione, Asrem e Federfarma dedicata allo screening diabetico. Un plauso al lavoro svolto arriva da Gennaro Sosto, direttore generale dell'azienda sanitaria. Settembre e ottobre ci sono serviti per rodare la macchina. Negli ultimi due mesi stiamo avendo un ottimo incremento. C'è stata la macchina amministrativa e anche quella operativa ha iniziato a camminare. Abbiamo intercettato circa 1.500 persone che hanno aderito alla campagna e hanno effettuato uno screening preventivo diabetologico. Il 10% circa degli screenati ha preso di essere soggetto diabetico. Quindi di avere una problematica, una patologia importante, una patologia che comunque vuol dire cronicità. Per cui avere intercettato 150 unità che oggi sanno di avere un problema e che possono sottoporsi ad una serie di azioni di cure preventive per noi vuol dire tantissimo. L'intenzione è cercare di continuare a lavorare con questo trend e anzi di migliorarlo visto che oggi la macchina si è messa in moto. E si attende dunque di vedere all'opera Andrea Giustini, commissario e il suo vice Ida Grassi. Intanto il senatore Di Giacomo attacca il governo e ripropone la questione dell'integrazione pubblico-privato per fronteggiare le emergenze. Sentiamo Giovanni Minicozzi. Si è voluta premiare l'esterofilia rispetto alle risorse umane presenti in regione dove esistono cardiologi e igienisti dello stesso valore tecnico del commissario e della subcommissaria nominati dal governo con un colpevole ritardo di quasi un anno. A parlare senza peli sulla lingua è il senatore Ulisse Di Giacomo, già primario cardiologo nonché direttore dell'unità operativa emergenza-urgenza al Veneziale di Sernia e assessore regionale alla sanità con il governo Iorio. Sento e leggo, aggiunge Di Giacomo, che il ministro vuole vigilare sulla sanità molisana inviando come commissario un ex generale immaginando la sanità molisana nelle mani della criminalità organizzata e tutti noi come delinquenti abituali, ignorando però che il livello di tragica inefficienza del sistema sanitario regionale è semplicemente la naturale conseguenza della incompetenza di chi lo ha gestito negli ultimi anni. Il presidente Toma, continua l'ex primario, a sua volta vuole vigilare sull'operato della struttura commissariale in una sorta di gara a chi vigila di più. Ma c'è qualcuno, si chiede Di Giacomo, che si preoccupa della salute dei molisani? C'è qualcuno che, oltre agli annunci e alle minacce, si è in grado di garantire il rispetto di un diritto costituzionale? Si dovrebbe mettere mano e in fretta, spiega poi l'ex senatore, alla rete dell'urgenza e emergenza, utilizzando le eccellenze pubbliche e quelle private, smettendola una buona volta con le crociate contro il privato, senza il quale in questa regione non potremmo disporre né di una cardiochirurgia né di una neurochirurgia. Infatti, la carenza di medici e di specialisti che non partecipano neanche ai concorsi non consente agli ospedali pubblici, in tempi ragionevoli, di fronteggiare le emergenze legate al dolore toracico e al trauma cranico. I molisani hanno bisogno di certezze, conclude Di Giacomo, e di qualcuno che si preoccupi della loro salute, non di chi vuole solo vigilare e fare inutili polemiche. Intanto, il Molise intero attende con ansia l'arrivo del generale Angelo Giustini, commissario ad Acta, e della dottoressa Ida Grossi, subcommissaria della Sanità, per conoscere i loro obiettivi di rilancio del sistema, ridotto all'inefficienza dalla politica e dai tagli inferti dal decreto Balduzzi. Di certo non riceveranno una buona accoglienza né dal governatore Toma, che amministrerà solo il 20% delle risorse regionali, né dalla maggior parte dei molisani che avrebbero preferito la nomina del Presidente della Regione. Siamo convinti però che tutto dipenderà dalle scelte operative della rinnovata struttura commissariale e noi le racconteremo con obiettività e senza pregiudizi. Oggi sospese di attività didattiche alla scuola primaria di Via Leopardi a Campobasso a causa di un guasto all'impianto di riscaldamento dell'edificio e ora dovremo vedere le immagini girate da un cellulare a termoli di questo fenomeno che ormai comincia a diventare familiare anche sulle nostre coste. Una tromba marina poco a largo della città, una tromba d'aria peraltro si è verificata anche all'interno della città, due addirittura in questo caso le vedete in lontananza e poi una violenta grandinata si è abbattuta sulla città provocando pochi danni ma comunque l'attenzione di tanti termolesi che hanno realizzato foto e video proprio catturati da questo fenomeno che è un anticipo di inverno e della perturbazione che sta per arrivare in settimana dove sono previsti abbassamenti di temperatura e anche qualche fiocco di neve anche a quote collinari. Per quanto riguarda il telegiornale ci fermiamo qua, ora diamo uno sguardo ai giornali online e a quelli che troveremo oggi in edicola. Giornalidelmolise.it, Toma Gelido sul commissario della sanità, ottimo curriculum ma nessuna tracciabilità del suo operato, il governatore, poi la scuola chiusa oggi a Campobasso allagata ma anche problemi al riscaldamento, la Don Milani, l'ex zuccherificio a fine mese, la scadenza degli ammortizzatori sociali il 31 dicembre, dicono i comitati, morirà la democrazia. Raggiunto a Isernia l'obiettivo dei 500 parti all'anno salvo il punto nascita del veneziale. A Macchiagodena si avvera il sogno di Don Franco inaugurato il villaggio San Nicola e poi con il volturno inquinato un esposto alla procura di Santa Maria Capuavetere. Sui quotidiani locali primo piano attacco di Toma per quanto riguarda la vicenda dei commissari, passa al contrattacco, il Presidente non si arrende all'imposizione del Governo, mandato ai legali per ricorrere alla Corte Costituzionale sia contro la nomina sia per impugnare la norma sull'incompatibilità. Intanto il Generale Giustini è atteso al Ministero per accettare l'incarico, no comment fino all'insediamento. Nel taglio centrale la foto del maltempo come abbiamo visto poco fa da Termoli, pioggia, tempesta di grandine, trombe marine, ondata di maltempo, flagella, la costa, c'è questa foto che riprende un fulmine che si scarica a largo di Termoli e poi nel taglio centrale ancora si allaga la scuola appena ristrutturata, sospese le lezioni a Campobasso e poi cauto ottimismo per le condizioni di Eugenio, il ragazzo di Ferrazzano coinvolto nell'incidente di Ancona, di Coro Rinaldo, una discoteca, cauto ottimismo per le sue condizioni, è in coma farmacologico. Stamane in consiglio la protesta degli ex dello zuccherificio con i gilet gialli e arriva in Italia un po' scimmiottando. La protesta che ha infiammato Parigi dei gilet gialli che hanno messo a ferro e fuoco la capitale francese ha ottenuto il ritiro del provvedimento di Macron sugli aumenti che riguardano la benzina e il gasolio, stavolta riguarda la protesta degli ex dello zuccherificio a Campobasso. Vediamo il quotidiano, anche qui la sanità in evidenza, Toma attende il commissario e annuncia due ricorsi alla consulta. Stiamo valutando l'ipotesi di impugnare le deliberazioni, è spropriata la nostra autonomia, intanto sempre per la sanità veneziale si festeggiano 500 nascite, ottimismo cauto sulle condizioni di Eugenio Bove, grandinate e trombe d'aria, il maltempo sferza la costa, neve a Campitello in Alto Molise, oggi previsti fiocchi nell'entroterra, ancora da Isernia per la cronaca, le sorelle rossi restano ai domiciliari e poi i falsi dipendenti dell'Enel ancora in agguato sono stati individuati dalla volante di Campobasso. Erano a rischio caduta alberi abbattuti in via Pietrella, nuovi arbusti nell'osorto di San Giovanni. La cronaca su futuro Molise da Campobasso, falsi dipendenti Enel, la polizia sventa una truffa grazie alla collaborazione di un cittadino, poi mancati pagamenti dei lavori della ricostruzione dopo terremoto, l'associazione dei costruttori edili del Molise, la situazione è grave. A Isernia salvo il punto nascita del Veneziale, raggiunto l'obiettivo dei 500 parti all'anno e l'onorevole deputato dall'osso lascia il Movimento 5 Stelle, nessun impegno sui disabili. Diverse le aperture sui quotidiani nazionali, cominciamo dal Corriere della Sera che parla di Europa, allarme del governo, Palazzo Chigi preoccupato per la linea dura, i tagli su reddito e pensioni, Conte vedrà Juncker, intanto tensione Salvini di Maio e Macron vara misure per 10 miliardi. Poi però nel cassettone c'è una foto che riguarda Teresa May, la premier britannica alle prese con l'accordo di Brexit che segna una sorta di caporetto per la prima ministra britannica, la May si arrende, l'intesa è crollata, Brexit nel caos, ha annunciato il rinvio del voto sull'accordo per la Brexit raggiunta a novembre fra Londra e Bruxelles e sempre oggi la premier sarà a Berlino per incontrare la cancelliera Angela Merkel, pronti ad ascoltare Londra, ma l'accordo non si cambia, dice il Presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani che in qualche modo gela il governo di Downing Street. Vediamo poi nel taglio basso una notizia che ha indignato tutti, pietre d'inciampo, la memoria di tutti, ridatecele subito, è accaduto a Roma un furto nel ghetto, sono stati asportati i sanpietrini dorati sui quali ci sono incisi i nomi dei deportati ebrei che si sono salvati e che hanno scampato il campo di sterminio, i campi di sterminio e chiaramente sono stati rubati, l'ipotesi formulata dalla Procura è furto aggravato dall'odio razziale. Vediamo la prima pagina di Repubblica che i sanpietrini riporta in primo piano come vedete, eccoli qui, Roma lo sfregio alla memoria della comunità ebraica, strappate le targhe che ricordano le vittime della Shoah e poi invece l'apertura su Macron che si piega ai gilet gialli, rabbia giusta, salari più alti il presidente francese, ma la violenza è intollerabile, in Inghilterra invece è caos Brexit, la MEI in crisi rinvia il voto. I tagli alla Fornero, in Italia si andrà in pensione a quota 100 ma con un percorso a ostacoli nella manovra risorse per tre anni, ancora non è chiaro per la verità che cosa accadrà, la trattativa è in corso, otto indagati, le colpe dei gestori per quanto riguarda la discoteca a Corinaldo e poi Salvini Di Maio è ancora a scontro sulla TAV, si profila addirittura il referendum tra gli iscritti. Andiamo a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano che trova ormai il modo per evitare i titoli sulle polemiche nel governo, ma parla di scandali, quattro uomini nei guai, giornata nera per i capi di Lega e Forza Italia, l'ex segretario del PD e il boiardo del Ministero di Economia e Finanza che sono Salvini, il papà di Renzi, Berlusconi e appunto il funzionario del Ministero. Per quanto riguarda Salvini, indagini sui fondi spariti della Lega, i famosi 49 milioni di euro perquisiti i revisori dei conti dei gruppi parlamentari, su Renzi, sul papà di Renzi, le Iene indagano sui lavoratori irregolari nelle ditte di famiglia, Babbo Tiziano le diffida, su Berlusconi Mediolanum, l'avvocato allievo del suo legale sotto inchiesta per corruzione e poi Garofoli e fuori da Chigi, da Palazzo Chigi, Conte chiede la testa del braccio destro di Tria in conflitto di interessi. Nel taglio centrale, referendum Tav, Salvini lancia l'esca avvelenata e il Movimento 5 Stelle a bocca. Avvenire titola sulle armi italiani, invece, non tacciono, dice il quotidiano dei Vescovi, troppi altri invece sì, ed è sono 186 le crisi violente nel 2017, solo il 3% degli italiani sa cosa accade in Africa, lo dice invece il rapporto della Caritas, secondo cui il legame tra guerre dimenticate e no e commerci di ordigni letali nel taglio centrale. La politica europea, leader europei nella tempesta, May chiede all'Unione negoziati d'emergenza, Macron fa mea culpa sulle tasse, rinviato il voto alla Camera sull'intesa, il Presidente vuole aumentare il salario minimo, si parla appunto di Francia e Inghilterra. anche il secolo in qualche modo titola, fa un titolo internazionale, Global Soros con la foto di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia non ha dubbi no al Global Compact, no all'invasione, con queste parole Giorgia Meloni pone un out-out al governo giallo-verde sul Global Compact e il manifesto invece titola Siamo Umani, il riferimento è all'anniversario della stipula della Carta Universale dei Diritti dell'Uomo alle Nazioni Unite che sigillava la fine della Seconda Guerra Mondiale, la pace resta incompiuta, guerre, odio raziale e diseguaglianze incendiano ancora il pianeta, intanto Macron prova a disinnescare la bomba, Francia è il Presidente a Rete Unificate, capisco la collera e aumenta il salario minimo anche sul manifesto, c'è spazio per il caos, la Brexit, la May che rinvia il voto. E la stampa di Torino che diciamo così ha una connotazione più esterofila rispetto agli altri, ai principali quotidiani, tra i principali quotidiani, sceglie TAV da Salvini sia il referendum di Maio, imprese e i fatti li farò io, c'è questo dualismo insomma strisciante che ormai comincia ad emergere e qui le due foto dei due leader in crisi, quello francese chiede scusa ai gilet gialli, mentre quella inglese negoziato d'emergenza con questa foto di un cellulare scattato durante una conferenza stampa e invece Teresa May arriva così a Downing Street con questa strana mantella che ricorda un po' le feste di Laura con tanto di tesi in mano, ma in realtà è un accordo che la mette davanti a una situazione molto complicata nel suo paese. Rapidamente il messaggero quotidiano della Capitale, deficit, la retromarcia di Lega e 5 Stelle, l'apertura più politica italiana, trattativa con l'Unione Europea, Salvini e Di Maio frenano Conte, non scenderemo sotto la soglia del 2 e 2, si continuano a limare i decimali del deficit, ma sugli impegni con le imprese è scontro tra i due vicepremier, il carroccio referendum sulla TAV e qui davanti a Westminster la protesta per la Brexit, May rinvia il voto, trattiamo gelo di Bruxelles, l'accordo non si cambia. Diamo velocemente uno sguardo al Sole 24 Ore, quotidiano di Confindustria e che parla dei tagli alla sanità, 2 miliardi in arrivo alla spesa per i farmaci e chiudiamo come sempre con le notizie che riguardano lo sport, c'è la Champions sullo sfondo, facciamo il pieno, è il titolo, l'Inter sulle spalle di Cardi e Messi perché dalla partita di Barcellona dipende l'esito della classifica dei nerazzurri e invece il Napoli parla di insigne e missione Brexit, nel senso che, insomma un po' strano questo titolo, si gioca in Inghilterra, insomma il Napoli gioca a Liverpool e si gioca a Lanfield Road le speranze di restare nella massima competizione europea e poi nel taglio basso c'è questa notizia che ricorda il capitano della Fiorentina scomparso a marzo a stori indagati, due medici per omicidio colposo, uno della Cagliari e uno della Fiorentina appunto, l'extrasistole riscontrate sarebbero state sottovalutate, l'inchiesta è stata riaperta e poi il Bologna salva Inzaghi ma ci sono due lutti, due notizie di cronaca, uno è l'addio a radice scomparso tecnico del Torino e poi invece c'è stato un incidente in Liguria c'è un ciclista investito, Manfredi è in coma e con queste due notizie chiudiamo la rasegna stampa di oggi dandovi appuntamento al telegiornale delle 14, ringraziamo Daniele Ricciuto che è stato con noi in regia, grazie a voi che ci avete seguito da casa per il momento è tutto dalla redazione, una buona giornata. Grazie a tutti!